Diciamo alle cose più importanti, sono i grandi maestri che dimostrano non soltanto ai loro allievi ma a tutto il pubblico cos'è il Karate. Paolo Bolaffi, Vicepresidente dell'Istituto, ci aiuta a vedere queste cose. Sì, esatto. In questo momento abbiamo il maestro Oshii Shirai, animatore del Karate italiano da più di un ventennio, è indiscutibile direttore tecnico e anima dell'Istituto Shotokan Italia. Sta eseguendo una forma, un kata, un punto come abbiamo detto prima in precedenza, un combattimento immaginario con avversari reali. Il kata si chiama Hangetsu e significa mezza luna. Il kata è composto da tecniche molto lente e da tecniche veloci. È uno studio sulla contrazione, la decontrazione muscolare molto approfondito. Viene seguito, come vedete, in religioso silenzio da tutti quanti. Abbiamo un uomo che ha fatto la storia, la storia del karate italiano, di conseguenza è apprezzatissimo e conosciutissimo. La tecnica di respirazione è potentissima, il maestro ha un chimè eccezionale. Tra l'altro dobbiamo dire che il pubblico di Lucca si presenta come un pubblico particolarmente intenditore perché riesce veramente a sentire il maestro, vi devo dire per cronaca, che ci saranno perlomeno una quarantina di amatori che stanno riprendendo questa scena. Evidentemente l'importanza di avere questo documento storico presente per questa serata. E adesso abbiamo, come si dice in...